i moltini di melanzane al forno con prosciutto cotto e formaggio filante la ricetta perfetta della mia mamma oggi la condivido con voi iniziamo con un sughetto molto semplice deve cuocere 10 minuti il tempo veramente prepariamo le melanzane spicchietto d'aglio filino d'olio faccio insaporire pochi secondi si sente il profumo dell'olio e dell'aglio aggiungo la passata di pomodoro regolo di sale da una mescolata fuoco al minimo chiudo faccio cuocere 10 minuti procedo con le melanzane per questa ricetta è preferibile scegliere la tipologia lunga poiché sarà più semplice poi fare il rotolino quindi lo lavate vado a spuntarle e le taglio a pette non troppo sottili parte esterna la tendo 3 anche 4 mm di spessore è perfetto quando non riesco più a mantenere la manzana in questa posizione poi diventata sottile la capovolgo e la taglio in questo verso qui ecco procedo anche con le altre le melanzane sono affettate quindi in circa 4 mm di spessore adesso devo andare a preparare indorate e fritte quindi le passo nella farina nell'uovo e poi le frigo ho preparato due piatti farina uova un pizzico di sale e lavoro l'operazione di infarinare rivestire con l'uovo e friggere melanzane deve essere quasi contemporanea quindi nel frattempo portiamo a temperatura l'olio l'olio è arrivato a temperatura io ho preparato anche un piatto con della carta assolvente per sistemare le melanzane la mano che sono pronte ed assolvire l'olio in eccesso procedo infarinando ogni petta di melanzane scrollo la farina in eccesso e vado a passarla nell'uovo faccio cadere l'uovo in eccesso e vado in frittura procedo in questo modo con tutte le melanzane se le vostre melanzane sono come le mie quelle che conoscete sapete che sono belle dolci potete utilizzarle direttamente come sto facendo io diversamente se invece sono amare dovete metterle prima un po sottosale e poi le andranno a utilizzare quando sono pendorate le scolate e le sistemate appunto nel piatto dove andranno a assolvire l'olio in eccesso ho finito di friggere tutte le melanzane e adesso posso andare a preparare le imbordine come vi dicevo io li vado a farcire con prosciutto cotto e del formaggio filante siccome dovranno cuocere veramente pochissimo in genere io li preparo con un formaggio sottile molto semplice da fondere tipo scottilette ma se preferite potete utilizzare anche della mozzarella della provola l'importante è che sia molto asciutta e molto sottile procediamo prendo quindi una fetta alla volta vi faccio capire anche perché era appunto opportuno che fossero lunghe le melanzane perché sarà più semplice arrotolarle ci vado a mettere un pezzetto di prosciutto cotto ecco così ed un pezzo di formaggio ecco queste sono comune anche perché si fanno facilmente a metà e sono proprio della misura giusta ecco non devo fare altro che arrotolarle non mi serve fissarle con uno stecchino o quant'altro perché le vado a sistemare una accanto all'altro in questo modo io precedentemente ho un po' la teglia proseguo con le altre le melanzane dorate e fritte preparate in questo modo vi assicuro che sono super deliziose sarebbero buone da mangiare anche così nella cucina in partenopea spesso vengono utilizzate proprio queste melanzane preparate in questo modo qui per preparare la parmigiana di melanzane un'ottima idea per rendere ancora più ricca e ancora più gustosa una parmigiana già buona di suo io quando posso evito questa super cottura delle melanzane per renderla un po' più leggera però devo dire che ha il suo perché la mia ricetta della parmigiana la trovate qui ecco qui rotulini di melanzane pronti non devo fare altro che mettere un po' di sugo e del parmigiano volendo potreste placere anche in bianco a me piace dare un po' di colore e parmigiano volendo potreste aggiungere ancora un po' di formaggio che fonde in superficie quindi ancora un po' mozzarella, sottiletta o scamorza insomma quello che state utilizzando ecco qui ed ora non devo fare altro che infornare i 180 gradi forno statico per 15-20 minuti gli importini sono pronti sono profumatissimi formaggio fonde e... fateli riposare qualche minuto poi portateli in tavola io vado ad assaggiarli subito non resisto devo assaggiarli proprio adesso mmmm scottano tantissimo ma io insisto ragazzi perché questi sono stratosferici ricci sono gli importini più buoni più semplici più veloci più sfiziosi che potete preparare sono il mio comfort food preferito ed ecco perché sono ancora più contenta di aver condiviso questa ricetta con voi quindi mi raccomando iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto attivate sempre le notifiche accendendo la campanella lasciatemi un like ed un commento fatemi sapere se avete provato questa ricetta cosa ne pensate se anche voi fate questi involtini o li fate diversi come li fate così provo anche la vostra ricetta io vi lascio con questi favolosi involtini di video appuntamento alla prossima ricetta quindi non mancate vi aspetto sempre qui sempre nella mia cucina un bacione a tutti ciao spaziali ragazzi spaziali 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 Grazie a tutti.